Dal cortile antico del Lebo si può accedere alla scalinata con il busto della prima donna laureata al mondo, la nostra padovanissima e mezza veneziana di la verità, Elena Lucrezio Cornaro Cornel Piscopia. In realtà qualche studioso ha tirato fuori anche un altro nome di una laureata sempre bolognese del 1236 ma a poco credito. Mi sono preso la briga di vedere qual è stata la seconda donna laureata al mondo per vedere se è un record notevole o no. Lucrezia si è laureata in filosofia, voleva in teologia ma il vescovo di Padova, Gregorio Barbarigo, niente poco di meno che, ha detto testualmente ci facciamo ridere dal mondo intero se ti lauri in teologia. Quindi questa poveretta, tra virgolette, nel senso che è morta poi sei anni dopo, quindi non ha potuto neanche esercitare, ha avuto una concorrente, la seconda concorrente, 54 anni dopo, con un nome altrettanto suntuoso, che si chiamava Laura Maria Caterina Bassi Veratti. Era una sola persona, Veratti però con una R, non come il calciatore italiano del Paris Saint Germain. Allora, in tema di record, ho detto, ma quale sarà il record più straordinario della storia? Perché i record di solito vengono battuti di un centimetro, di un centesimo a seconda della specialità. Nello sport, secondo me, ma anche in tutti i settori, quello di Bob Bimon, 1968, Città del Messico. Bimon ha saltato in lungo 8,90 metri, battendo in un colpo solo di 55 centimetri, cioè oltre mezzo metro, in regolo mondiale. Una cosa che non esiste, eppure hanno controllato 20 volte, è tutto regolare. Ma la cosa più incredibile è che questo Bimon non ha saltato nelle migliori condizioni psicofisiche. Primo, si era appena separato dalla giovane moglie. Secondo, era pieno di debiti, ma terzo, ed è la cosa più incredibile, la sera prima, forse per dimenticare, si era fatto una bella balla di tequila. E nonostante tutto ha fatto 8,90. Chissà, senza tequila, senza debiti e con la moglie, o toccava i 10 metri, oppure chissà, è un mistero.